Oltre 1.100 polizze fideiussorie false e messe in tutta Italia nei confronti di enti pubblici, fra cui prefetture, ministeri e regioni e privati da una società non autorizzata all'esercizio per un capitale coperto fittiziamente di 170 milioni di euro. Un'attività illecita che ha fruttato premi per circa 3 milioni per polizze inesistenti. Da oggi sono in corso di esecuzione da parte delle Fiamme Gialle dell'Aquila a misure cautelari con un arresto in carcere e due a domiciliari nei confronti di tre persone, rispettivamente amministratore delegato, presidente del collegio sindacale e presidente del consiglio di amministrazione della Confideuropa SCPA, con sede legale nel capoluogo abruzzese e unità operativa a Coleferro Roma. Le accuse principali sono di truffa aggravata, associazione per delinquere e abusiva attività finanziaria. Tra gli enti truffati, numerosi dei quali, anche con polizze escusse naturalmente senza successo, figurano le regioni Sicilia, Trentino e Abruzzo. La rete di clienti era così estesa perché i costi erano al di sotto della media di mercato, coinvolta nell'inchiesta una quarta persona nella sua qualità di sindaco supplente della Confideuropa SCPA, sul quale pende un provvedimento di divieto dell'esercizio dell'attività professionale. Nelle misure emesse dal GIP del Tribunale dell'Aquila, su richiesta del sostituto procuratore Stefano Gallo, ai quattro indagati vengono contestati anche le ipotesi di reato di false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza ed una dichiarazione infedele. Le indagini portate avanti dai militari del nucleo di polizia tributaria guidati dal colonnello Sergio Aloia sono scattate con un'ispezione antiriciclaggio avviata dagli investigatori della Guardia di Finanza nell'aprile del 2014 a seguito di due segnalazioni. L'una proveniente dalla Banca d'Italia su un presunto esercizio abusivo dell'attività svolta dalla Confideuropa SCPA e l'altra dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, su alcune operazioni bancarie sospette poste dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. A quel punto è emerso che la società controllata, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, aveva emesso un numero elevatissimo di fideiussioni. È stato accertato anche che le garanzie erano state prestate in favore di soggetti fisici e giuridici, non consociati ed enti pubblici vari in palese violazione delle norme contenute nel testo unico bancario, che consentono ai cosiddetti confidi minori, come la Confideuropa, di garantire soltanto i consociati. Gli arrestati sono CL classe 63, MG classe 42, SR classe 40, nella loro qualità rispettivamente di amministratore delegato, Presidente del Consiglio Sindacale e Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Confideuropa, Il professionista raggiunto dal provvedimento di rivieto dell'esercizio temporaneo dell'attività è AA, classe 49.